Erano 20 i braccianti agricoli sfruttati nel territorio gelese e pagati 5 euro l'ora privati dei diritti e delle tutele previste e costretti dal loro stato di bisogno ad accettare condizioni di lavoro simili che non rispettano i loro diritti minimi. Scoperti in una delle ultime operazioni della Polizia di Stato sul territorio nisseno e della CGL arriva a dire l'esigenza di applicare la normativa prevista. La posizione della CGL e della FLAI non cambia assolutamente rispetto all'azione che è stata operata dalle forze di polizia e dagli ispettori dell'Inps che hanno dimostrato una grande attenzione al territorio, un controllo fattivo che ha portato all'arresto e all'emersione di questa piaga delle nostre campagne e dei nostri territori. Noi insistiamo sul fatto che è necessario una forma di prevenzione che dia anche a questi lavoratori la certezza che ci sono le forze sociali atte a denunciare determinate forme di sfruttamento. È un fenomeno che purtroppo ancora è presente nelle nostre campagne e che deve essere debellato attraverso un'azione di prevenzione. Fenomeno da debellare è quello del caporalato che è ancora radicato e silente in un territorio come quello nisseno dove l'agricoltura è centrale per l'economia e a subire un drammatico gioco a ribasso è sempre il lavoratore. Chiediamo anche che la legge 199 del 2016 che conteneva norme di inaspiramento nei confronti delle forme di capolorato e di sfruttamento del lavoro agricolo venga applicato in tutte le sue forme. Quindi ci riferiamo alle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità che comprendeva appunto queste iniziative nel territorio atte a fare una forma di prevenzione e di sicurezza nei confronti di questi lavoratori. La famiglia del lavoro determina una condizione da parte di questi lavoratori che sono costretti ad accettare qualsiasi forma di lavoro e questa è la piega più profonda da dover debellare. Sottoscritto anche da CGL pochi mesi fa un protocollo in prefettura tra organizzazioni datoriali, parti sociali ed istituzioni contenente ulteriori misure e strumenti per la lotta al contrasto del fenomeno.